1. Un mattino mio padre mi svegliò di buon'ora. Dovevamo andare a caccia del diavolo, un orso gigantesco e puzzolente che da anni terrorizzava il paese. Mio padre aveva scommesso che l'avremmo catturato. Così partimmo attraverso il bosco. Su di lui si narravano storie leggendarie. Aveva artigli giganteschi con cui sventrava animali e persone. Ma noi non avevamo paura. Ci sentimmo uniti in questa avventura. Nel bosco buio migliaia di occhi ci osservavano. Ci nascondemmo nell'erba con i fucili puntati. Il diavolo apparve spaventoso. Un colpo risuonò nel bosco. Quando riaprì gli occhi era morto e mio padre mi abbracciò. Tornammo a casa con la pelle dell'orso per riscuotere la ricompensa. Eravamo due eroi e in futuro avremo fatto grandi cose.